Era un ragazzo d'oro, mancherà tantissimo a tutti noi. Così i titolari è il direttore dell'Edil Grappa, l'azienda di Semonzo, dove lavorava da quattro anni Mattia Citton, il 23enne di Borsorel Grappa, morto la sera di Pasquetta, finendo con il suo pick-up in una scarpata sul Monte Grappa. Il giovane, lo ricordiamo, aveva trascorso la giornata con gli amici al rifugio Alpe Madre. Al momento di tornare a casa, lungo la strada panoramica delle Penise, che porta a Colmoschin, ha tentato un'inversione di marcia. Ma una manovra sbagliata è stata fatale e l'auto è precipitata nel burrone senza che nessuno se ne accorgesse. La vettura è rotolata per 400 metri, Mattia è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Per lui non c'è stato nulla da fare. Al lavoro lo ricordano come un ragazzo pieno di iniziativa, coscienzioso, pignolo e puntuale nel portare a termine i compiti che gli venivano assegnati. In azienda nessuno ha voluto parlare davanti alla telecamera perché, ci hanno confidato, è un dolore troppo grande da esprimere. Mattia andava d'accordo con tutti, amante della montagna. Non erano rare le occasioni in cui il sabato o la domenica usciva in escursione assieme ad alcuni compagni di lavoro, che gli saranno vicini sino all'ultimo. Il giorno del funerale la cui data ancora non è stata fissata ed il grappa resterà chiusa e tutti saranno presenti in chiesa per l'addio al collega e amico Mattia Citton.